Il corpo senza vita di una donna è stato trovato questa mattina alle 10 in un canale di via Castagnevizza all'altezza del civico 138 all'isola Sacra. E quello che purtroppo dobbiamo aggiungere rispetto a quanto anticipato nella prima edizione di oggi sono come vedete intanto immagini altamente drammatiche, anzi vi avviso sono immagini molto dure. E poi purtroppo c'è da aggiungere che il cadavere confermato appunto quello della donna che era scomparsa Maria Tanina Momilia scomparsa solo ieri, il cadavere è stato trovato da alcuni operai, operai del Consorzio di Bonifica che hanno avvisato immediatamente il 118, il personale prontamente intervenuto ma non c'era naturalmente nulla, assolutamente nulla da fare. Il cadavere presentava una profonda ferita alla testa, queste sono le notizie importanti e nuove, l'orecchio sinistro tagliato a metà con ecchimosi sulla schiena che fanno pensare anche a una colluttazione oppure al fatto che la donna sia stata ripetutamente colpita e quello che forse è più grave, chiari segni di strangolamento che certo non farebbero pensare ad una caduta accidentale come in un primo momento si era ipotizzato dopo il ritrovamento, ritrovamento che ripeto arriva a molte ore di distanza dalla scomparsa quando il marito aveva dato l'allarme, la donna, lo ricordiamo, era uscita di casa dicendo di andare a pranzo da alcuni conoscenti, non è mai tornata a casa, lascia il marito e due bambini e soprattutto adesso questo allarme di mistero sul quale sta indagando la polizia scientifica in primo piano naturalmente per le prove raccolte dopo il recupero del cadavere come vedete in queste immagini, in questi attimi drammatici davvero che vi possiamo far vedere purtroppo con la tristezza di annunciare che si tratta davvero di questa donna scomparsa Maria Tanina Momilia e che le cause della morte fanno pensare davvero a un evento drammatico con ripeto chiari segni di strangolamento